Salve a tutti e benvenuti qui sul canale di Rocha dopo tante settimane per una nuovissima Top 5 Allora ragazzi dopo il video di ieri in cui parliamo della storia della sincronizzazione tra Ash e il suo Pokémon di Carlos Greninja Quest'oggi non ci adontaniamo troppo dall'argomento di ieri, infatti parliamo sempre di Ash Ketchum Ma faremo la Top 5 sui 5 Pokémon appartenenti a Ash più forti di sempre E qui ragazzi veramente è un ottimo argomento di discussione, infatti Ash nella scorsa della sua storia nell'anime Pokémon Ha accattato ovviamente un sacco di Pokémon molto molto vari, alcuni hanno accattato contro Capiparesta, alcuni contro i rivali di Ash Altri invece addirittura contro i leggendari, altri sono appunto meno forti e questo non possiamo negarlo Mentre altri meritano, anzi strameritano di entrare in questa Top 5 sui 5 Pokémon più forti di Ash di sempre Quindi ragazzi dopo aver visto questo interessantissimo video, infatti diciamo che sarà molto utile per creare una discussione nei commenti E per questo nei commenti vi invito a lasciare la vostra personalissima Top 5 Poi vi invito a lasciare un bel piacere per supportarmi e una bella iscrizione al canale di Rochat Quindi non perdiamo il terreno del tempo Reclute e partiamo subito con la nuova Top di quest'oggi Al quinto posto... Infernape Allora ragazzi ho deciso di rimettere Infernape al quinto posto di questo Top perché sinceramente mi pare uno dei Pokémon più forti di sempre di Ash Ma soprattutto uno dei Pokémon più forti che Ash abbia mai avuto nella regione di Sinnoh Allora, la storia che è stata raccontata nell'anime di Sinnoh, di guardante appunto Infernape e precedentemente Cimcer e Monferno Secondo me è veramente molto molto bella Infatti inizialmente questo Pokémon era un Pokémon di Paul, il rivale di Ash nella regione di Sinnoh Paul, mi raccomando ragazzi, se non l'avete visto, guardate perché è un rivale veramente stupendo Un personaggio fantastico che è nel solito nell'anime Pokémon Appunto, inizialmente Infernape, ovvero Cimcer, era un Pokémon di Paul Poi Paul l'ha abbandonato perché pensava che fosse troppo debole e quindi Cimcer si è unito al team di Ash Cimcer inizialmente era molto rimotivato, molto insomma triste dall'abbandono di Paul E quindi ci ha messo un po' di tempo per diventare forte Ma fidatevi ragazzi, questo Pokémon è molto molto forte Infatti ha comattuto contro Paul diverse volte nelle battaglie epiche, addirittura contro il suo Ursaring Contro questo Ursaring si è voluto da Monferno a Infernape E appunto da Infernape ha combattuto delle battaglie epiche In particolare contro il Luxray di Corrado nell'ultima palestra di Aranipoli Ma soprattutto contro l'Electiva di Paul alla Lega di Sinnoh Queste sono delle battaglie epiche in quanto ragazzi in queste battaglie ha utilizzato la sua abilità aiuto fuoco Che lo fa diventare veramente potentissimo ed era una delle migliori cose nell'anime di Sinnoh Quindi ragazzi, quinto posto magnetatissimo per Infernape Al quarto posto Snorlax Allora ragazzi, magari questa scelta vi sorprenderà un po' Perché Snorlax magari, dite, non è così forte rispetto agli altri Ma invece ragazzi, questo Pokémon enorme Ha nell'anime una potenza fisica davvero incontrastabile Ho visto delle battaglie di Snorlax nelle prime stagioni dell'anime Pokémon Veramente incredibili Questo Pokémon si dice ragazzi che, anzi si dice Nell'anime aveva stranamente 5 mosse Cioè, noi avevamo 5 mosse ancora prima di solo l'una e non ce ne avevamo mai accorti Questo Pokémon aveva 5 mosse Io me ne ricordo 4 Aveva Iperraggio, Riposo, Giropugno e Bodyslam Poi ne aveva anche un'altra ma non mi ricordo qual è ragazzi Però aveva 5 mosse Si è stato catturato nell'anime Pokémon delle isole Orange Da Ash, appunto, grazie a Jigglypuff Se vi ricordate Jigglypuff era quello che cantava sempre E grazie all'aiuto di Jigglypuff hanno catturato Snorlax È un Pokémon che ha aiutato Ash in diverse battaglie contro Gary Con diverse battaglie contro Pokémon molto forti di Gary Ovvero Alka, tipo Alka e Nidoquin Ma ha anche aiutato Ash a vincere il simbolo del dojo lotto Nel parco lotto di... Di... Praticamente ragazzi Infatti ha sconfitto dei Pokémon tipo lotta Snorlax è debole a tipo lotta Eppure ha sconfitto proprio in maniera pulitissima Dei Pokémon tipo lotta Mi pare Medicham C'era anche forse un Poli Comunque gli ha sconfitti grazie alla sua tattica di riposo Più Iperraggio e Bodyslam Veramente ragazzi Un Pokémon dall'attacco fisico mostruoso Sicuramente uno dei miei preferiti dell'anime Pokémon Al terzo posto Sceptile Ragazzi e qui arriva finalmente Andiamo sul podio E partiamo con uno dei miei Pokémon preferiti di sempre Nell'anime Pokémon Il primo start d'erba di Ash totalmente evoluto Ovvero appunto Sceptile Questo Pokémon ovviamente Inizialmente si è toccato da Ash come Trico Era un Pokémon molto molto sicuro di sé Anzi lo è ancora come Sceptile Un Pokémon molto sicuro di sé Molto come dire Solitario Un Pokémon molto convinto delle sue capacità E infatti ragazzi Era veramente molto molto forte E abbiamo visto delle sue battaglie nell'anime Veramente epiche Ma veramente ragazzi Questo Pokémon ha fatto delle battaglie epiche Che io mi ricordo veramente sempre Questo Pokémon come vi dico È il primo start d'erba di Ash totalmente evoluto E è stato molto utile nella regione di Un Per vincere determinate medaglie ad Ash Ma soprattutto ragazzi Nella lega di Sinnoh Quando è tornato nell'anime di quarta generazione Insomma è stato il primo Pokémon A sconfiggere il Darkrai Il Tobias Io vi dico solamente Lega di Sinnoh Ash contro Tobias Sceptile contro Darkrai Se non avete visto quella battaglia Io vi invito ad andare a vederla Perché è una delle battaglie più epiche Nell'anime Pokémon Che io abbia mai visto Inoltre vi dico che è anche combattuto contro Regirock e Deoxys Però in quel caso non ha vinto Ma ha solamente vinto contro Darkrai Per quanto riguarda i Pokémon legendali Quindi ragazzi E veramente Sceptile Tantissima roba nell'anime Pokémon Al secondo posto Greninja Allora ragazzi Greninja secondo me Merita Proprio Merita tantissimo di stare in questa top Ma sono avuto sul podio Perché sinceramente ragazzi Dopo Dopo l'aggiunta che gli hanno dato Con la sincronizzazione con Ash Quindi Greninja forma Ash Secondo me Ragazzi questo Pokémon Ha una marcia in più rispetto a molti altri Però C'è ancora un Pokémon che secondo me È più forte di questo Greninja Greninja non Cioè non fintenetevi È veramente molto molto forte Con questa sincronizzazione con Ash Con questa Con questa insomma Abilità che ha Con Ash È veramente Molto molto valido E aiuterà sicuramente Ash Nella parte finale dell'anime di Pokémon Davvero Pokémon X Y e Z A insomma Battagliare nella Lega Pokémon di Karo Non so Non vi faccio spoiler Perché la Lega Pokémon Come vi dico È già avvenuta in Giappone E non voglio farvi spoiler Ne parlerò più avanti In qualche video Però ragazzi Fiatemi che Arrivano delle battaglie con Greninja Veramente molto molto belle Come vi ho detto ieri ragazzi Greninja ha affrontato In un episodio Il Gadwa Della campionessa di Anta E qua veramente Partiranno le battaglie epiche Di questo Greninja Che ha delle mosse Anche qui Molto molto potenti Che sicuramente Lo aiuteranno Nella scalata Alla Lega di Karo Ma al primo posto Come Pokémon di Ash Più forte di sempre Charizard E ovviamente ragazzi Non potevo non mettere Charizard È veramente Uno dei Pokémon Più epici Nell'anima Aveva un comportamento Un carattere Questo Pokémon Che era veramente Una cosa Incredibile dell'anima Una cosa che mi piaceva Sempre vedere E infatti mi piacerebbe Rivedere il Charizard di Ash Tornare per aiutarlo A vincere la Lega di Karo Questo mi piaceva Veramente tantissimo Ma partiamo dal principio Ragazzi Quando Ash Insomma incontrò Il piccolo Charizard Che a quel tempo Era un Pokémon Molto molto tranquillo Che andava d'accordo Con Ash Poi si è voluto In Charmeleon E adesso sono cominciati I problemi Infatti Charmeleon È diventato troppo forte Per Ash Che era leggermente Insomma debole Quindi Charmeleon Non lo rispettava Addirittura le cose Sono andate peggiorando Quando è diventato un Charizard Da lì allora Veramente Charizard non obbediva Manco più Ash Però Non soltanto questo ragazzi Charizard Ha veramente Io mi ricordo una battaglia Contro Magmar Nella palestra di Blaine Nell'isola Cannella Mi ricordo delle battaglie Anche contro Insomma contro Alcuni Pokémon di Gary Io mi ricordo Per esempio ragazzi Un 3 contro 1 Mi pare Nella lega Il Pokémon Contro Gary Dove Mi pare a Yoto Sia Yoto Era Yoto Dove Charizard sconfigge Shizor Golem E Blaster di Gary In una battaglia 3 contro 1 Perché erano rimasti Solamente In 3 contro 1 Quindi Charizard Dash E Golem Shizor Le Blaster di Gary Una battaglia epica In una volta possiamo dire Che appunto Ha sconfitto anche Il Magmar di Blaine Il Pidgeot di Valerio Nella regione di Yoto Un sacco di vittorie Bellissime E ha anche affrontato Un Articool Nell'anime Quindi ragazzi Veramente un Pokémon Dalla potenza Increibile Anche con delle mosse Molto molto potenti Nell'anime Infatti aveva Mi ricordo Il suo movimento sismico Ragazzi Ma che bello è Nell'anime Il movimento sismico È una mossa bellissima Poi ovviamente Aveva lancia fiamme Attacco d'ala Tutti questi attacchi Qua aveva ragazzi Quindi Veramente Secondo me Charizard dovrebbe tornare Nell'anime di Chaos Per aiutare Ash Perché sinceramente Ragazzi Secondo me È il Pokémon più forte Che Ash Abbia mai catturato E mai posseduto Insomma Ok ragazzi Anche per oggi La top Finisce qui E io spero Veramente Che vi sia piaciuto Questo ritorno Delle top Quindi ragazzi Un bel mi piace Per supportarmi Un bel commento Per dirmi la vostra opinione E una bella iscrizione Ovviamente Al canale di Rocket Noi ragazzi Ci vediamo domani Con una nuova serie Qui sul canale Appunto Quindi mi raccomando Di manete sintonizzati Quindi Un saluto a Rocket Buona domenica E ovviamente Bye bye